Bello eh? Anche lei? Io? Io non sono capace Posso ballare? Ma si può? Si è gratis Si ma non c'entro a gratis Ti butti? La Zumba è una lezione divertente, dimagrante, tonificante che combina i ritmi latini con i movimenti del fitness Siamo qua a Piazza del Sole apposta per fare una lezione di Zumba ci siamo tutti venerdì dalle sette e mezza alle otto e mezza aperta a tutti, gratuita chi vuole venire, chi si alza, che ci sente la musica si alza dalla spiaggia e si unisce a noi siamo qua per divertirci A me piace da matti ti diverti, muovi, sudi, bruci e ti rilassi un po' Non l'ho mai fatta, sperimento stasera Zumba mai fatta, proviamo quest'anno dopo aver partorito due bambini quindi ci rimettiamo in forma d'estate Dopo un lavoro, dopo una giornata di lavoro se finisce, si fa la Zumba, si rilassa Io ho tre anni, un po' di anni però per me è cambiata la vita perché prima ero un cadavro avevo vergogna di tutto adesso con la Zumba non che, però mi trovo benissimo sopra La 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 la, forever together, la 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 la, we're gonna dance forever, la 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 la, forever together.